Qual è la caratteristica principale di questo corso? È che non considera la gamification nello stesso modo in cui normalmente viene considerata dai cosiddetti esperti, tra virgolette, se non dalla maggioranza degli insegnanti, e cioè come dei giochi didattici da introdurre a scuola. La gamification non è giochi didattici da introdurre a scuola, cioè non è questo. Siamo in aula, io svolgo una lezione normale e poi dico ragazzi è venuto il momento di giocare, ecco il giochino didattico di geografia piuttosto che di chimica o di latino o di storia. No, questo significa infondare negli studenti l'idea, consolidarla proprio, l'idea che l'insegnamento sia una cosa e abbia il suo aspetto bello e tradizionale e trasmissivo, classico, e poi il gioco sia così un momento ludico. La gamification non è questo. Gamification significa introdurre delle meccaniche di gioco all'interno di una struttura didattica che è orientata a questo e quindi significa modificare delle metodologie didattiche affinché l'apprendimento sia basato su sfide che si appoggiano su appunto meccaniche di gioco. Quindi noi vedremo proprio strutturalmente questo e naturalmente nel corso base avanzato daremo tutta una serie di soluzioni e addirittura nel corso avanzato vedremo come riunire i contenuti didattici insieme al gioco per costruire dei libri game, cioè proprio per concludere anche l'anno scolastico degnamente sotto il profilo della gamificazione.